Una gran bella doppietta, innanzitutto dal punto di vista personale, una bella gioia perché insomma, grazie ai tuoi gol il San Marzano passa il turno di Coppa Italia. Sì, grazie. Oggi siamo stati bravi a rispondere dopo i gol che abbiamo preso, quindi ora aspettiamo il campionato, pensiamo partita dopo partita e lavoriamo sempre come si deve lavorare. Un inizio un po' in salita, visto il vantaggio del Manfredonia, poi come hai detto tu avete reagito bene, avete reagito in maniera ordinata e avete prodotto anche tante azioni da gol, non solo con voi attaccanti. Sì, dopo il gol ci siamo svegliati subito, ci siamo addormentati un po', ma ci siamo svegliati subito. Nel secondo tempo, dopo il 3-2, in pratica non c'è stata più partita perché il San Marzano ha controllato la gara e solo nel finale il Manfredonia ha provato a portare pressione ma senza mai tirare in porta. Sì, siamo in vantaggio, quindi non dovevamo prendere il gol, quindi siamo messi bene in difesa e siamo usciti bene.